Sindaco, è entrato col Green Pass stamattina? Assolutamente sì, l'ho mostrato in Portineria, eccolo qua, questo è il mio Green Pass che ho da tempo, che è l'unico documento che oggi è richiesto per l'ingresso nel Palazzo Comunale, sia da parte del personale che lavora in Palazzo Comunale, sia da parte dei visitatori. Quindi siamo al primo giorno di applicazione integrale del sistema Green Pass in tutta l'Italia. Io dico sempre, se si vogliono cambiare le regole, bisogna ricordarsene quando si vota. Una volta che il Governo e il Parlamento hanno varato una regola, a quella ci dobbiamo attenere. E ve lo dico io che sono una figura istituzionale e altrettanto devono fare i cittadini. Tornando ai dipendenti pubblici, quindi quelli comunali, ci sono stati problemi? No, non mi risulta, ero ora con l'assessore al personale, non mi ha rappresentato alcun tipo di problema. Mi pare che stia andando avanti tutto in maniera più o meno regolare. Vorrei anche sottolineare il fatto, per coloro che hanno un altro tipo di convinzione riguardo ai vaccini, non riguardo ai Green Pass, che è comunque da considerare che questo periodo, per quanto si voglia, è un periodo transitorio. Si tornerà a una normalità in cui non servirà più il Green Pass. Supereremo ancora una volta quest'emergenza e quindi io dico abbiamo tutti quanti, dotiamoci di pazienza e per ora usiamo il Green Pass per fare tutto quello che facevamo prima, ma stavolta con l'ausilio di questo documento che consente a tutti di stare anche vicini. Per accedere ai servizi non è necessario il Green Pass, per esempio, andare allo sportello unico, vero? Beh, insomma, l'importante è che ci siano delle regole da seguire in modo tale che chi si approccia a uno sportello lo possa fare in condizioni di sicurezza e questo è quello che ci preme che sia mantenuto anche nel tempo. Quindi bisogna rappresentare Green Pass anche per entrare a svolgere dei servizi come utenza? A meno che questi non possano essere svolti per via telematica. Ora molte delle funzioni che svolge lo sportello unico di fatto si possono fare per via telematica. Quindi alla fine il possesso del Green Pass non è così fondamentale come potrebbe sembrare.